La mia famiglia ha sempre fatto questo lavoro, e così i miei nonni e i miei bisnonni. Io so di non apparire un agricoltore tipo. Sempre di più gli allevatori sono al passo con i tempi, quindi usano la tecnologia, usano internet, quindi fanno un lavoro sia pratico che d'ufficio. Il nostro allevamento è un allevamento biologico e biodinamico. Gli animali possono pascolare sia all'interno che all'esterno e sono sempre liberi. Mangiano cereali e foraggi che sono prodotti da noi, e questo è uno dei punti fondamentali. Cercare di prenderci cura dei nostri animali, ma anche dell'ambiente, senza inquinare e senza far soffrire la terra su cui siamo. Fare l'allevatore è un mestiere difficile, e fare l'allevatore biologico e biodinamico è ancora più difficile. Questo è un lavoro che si fa solo per passione. Lei è Raffaella, ed è una dei 15.000 allevatori italiani che ogni giorno lavorano per voi. Perché la carne di McDonald's è bovina al 100% e proveniente solo da allevamenti italiani.